Allo stesso tempo che dico a questo punto forse dobbiamo uscire dall'ambiente e andare nel contesto dell'edificio perché una cosa è dipingere il culto l'ambiente, una cosa è dipingere l'intero dell'edificio quindi, ricordate quello che diceva, questo è San Paolo, sul quanto costa vorrei effettivamente dipingere tutte queste stazioni cioè il contesto dove siamo mai Sì, allora, prima una cosa, sì, 15 persone che avevano fatto una domanda, 15 persone della stanza sono verdissime infatti, come ho detto, in realtà quello è il gruppo di lavoro completo Il tema è la ricostruzione per gli altri, ho fatto questo, troppo ci ho potuto presentare il fatto al lavoro nella stanza insieme non si raggiunge mai più di 15 persone, questo è il gruppo di lavoro e purtroppo non potevo presentare la ricostruzione mediana, però il tempo massimo poi di fatto sono meno persone con altri impegnati sull'interno che ha limitato l'operazione però sì, vado a fare e quindi mi metterò l'utilizzo della stanza e l'altra era, sì, assolutamente, allora, sono tutti dati da prendere in considerazione assolutamente, sono assolutamente d'accordo il punto è rimasto che ho detto durante tutto l'intervento bisogna ordinare il metodo sarebbe più felice che riuscisse da arrivare a un totale livello di impagno e sarebbe in grado anche di considerare queste varie artiche che riguarda l'uso o meno di metri come questo potesse variare il risultato finale e questo è un costanto quindi dobbiamo vedere anche i contatti di questi dettagli e ora mancano purtroppo i dati secondo me Graticamente quindi questi sono precisi che ho chiesto ecco Grazie.